Allora, amici del tubo, qualche giorno fa io parlai di quella conferenza che fa il professore Rubbia sui global warming e sull'esigenza quindi di, che ovviamente i media stanno spargendo questa notizia cioè che c'è l'esigenza praticamente di tornare a camminare sui muli perché a causa di queste emissioni di CO2 e quant'altro stiamo provocando il riscaldamento globale. Allora il professore Rubbia e anche altri suoi simili hanno smentito ripetutamente questa cosa dicendo che è una balla dicendo che è una balla e che quindi non c'è assolutamente bisogno di tornare sui muli o di tenere le candele accese in casa perché innanzitutto questa storia di questo enorme riscaldamento non esiste e seconda cosa, ci sono soluzioni ben diverse da poter sfruttare. Allora ci siamo, si vede qualcosa? Allora, quindi praticamente ci sono industri, scienziati, previ Nobel, fisici eccetera eccetera che stanno smentendo continuamente questa ennesima balla solo che chiaramente nessuno li fa parlare in televisione nessuno scrive queste notizie sui giornali, sulla stampa ufficiale per cui nessuno ci crede nessuno insomma si va a vedere queste cose perché ovviamente si prende per buono solo quello che si dice in televisione ovviamente allora questo è sempre la solita storia perciò poi siamo in certe condizioni perché la gente al di fuori della televisione al di fuori della stampa ufficiale visto che ancora non ha capito che questi sono mezzi di propaganda quindi al di fuori di queste cose qui non va a informarsi non si va a vedere niente perché crede che quale sia il Vangelo e quindi basta, finisce lì allora io adesso sul web ho trovato anche un'altra notizia allora mentre ci dicono che l'Europa sta bruciando per un caldo mai visto prima a causa del global warming del global warming i dati ci rivela le seguenti cose allora globalmente la Terra registra oggi la temperatura di 0,1 gradi centimetri centigradi in più rispetto alla media 1979-2000 questo è un dato che ha confermato anche il professore Rubia anzi lui ci ha detto che questo aumento di tipo 0,1, 0,2 o qualcosa del genere si è registrato negli ultimi non so quanti mila anni praticamente la temperatura media giornaliera a nord dell'ottantesimo parallelo è ormai da alcuni mesi sotto la media 1958-2002 e non ha ancora superato lo zero termico in Gorillania continua a nevicare e la massa nevosa accumulata totale di questa stagione ha già superato la media 1981-2010 allora ricordiamo che dagli anni 50 al 1985 abbiamo assistito a circa un trentennio di raffreddamento delle temperature globali tanto che si parlava del ritorno ad una nuova era glaciale allora anche qua c'è una piccola parentesi da fare perché quando loro parlano dei cambiamenti climatici allora i cambiamenti climatici in realtà sono una cosa naturale e questo l'ha detto anche il professore Lubbia ma non c'era bisogno di lui dirlo perché se voi ci fate caso nel corso del tempo, dei secoli, dei millenni, eccetera, eccetera noi abbiamo avuto le ere geologiche in cui i climi sono stati chiaramente diversi sono stati diversi quindi abbiamo avuto per esempio le ere glaciali, le glaciazioni in cui chiaramente era tutto congelato tutto bello congelato poi questi ghiacci si sono sciolti e abbiamo avuto le altre fasi insomma per cui queste indipendente ma là non c'erano emissioni di CO2 là non c'era niente per cui praticamente per cui praticamente queste cose è normale che ci siano indipendentemente da lui non è che adesso loro che cosa vogliono fare poiché noi dobbiamo sempre essere colpevoli ovviamente noi dobbiamo sempre noi inquiniamo e quindi sbagliamo noi ci riproduciamo per cui i bambini inquinano noi prendiamo la macchina e non la dobbiamo prendere insomma tutte le sempre solite cose poiché devono sempre incolpare noi ma semplicemente perché vogliono ristringerci vogliono metterci dei paletti in quello che possiamo fare ma semplicemente perché fa comodo a determinati a determinati lit questa cosa qui allora questa è l'ennesima trovata l'ennesima scusa con cui loro ci vengono a dire è per colpa vostra che se fate questo quindi se vogliamo risolvere la CO2 questa emergenza voi dovete restringervi dovete andare sul muro dovete camminare col muro dovete accendere le candele in casa non dovete consumare non dovete aprire l'acqua non vi dovete lavare non vi dovete fare niente quindi queste sono loro si agganciano a qualcosa per farci credere che sa noi risolvere la cosa mediante questi sacrifici ok stessa cosa è successa per il gas stessa cosa è successa per quell'altra cosa lì che vola ok allora quindi i dati se voi andate a vedere un attimo l'informazione che non sta in televisione perché in televisione il professor Rubia non lo invitano più non lo invitano neanche se voi ci fate caso Zichichi che prima invece ogni tanto appariva perché anche lui ha detto guardate che questa è una balla e quindi non appare più semplicemente in televisione perché va a contraddire andrebbe semplicemente a contraddire tutta la diciamo tutta la la propaganda che stanno facendo questi qua perché se se viene fuori se la gente comincia a convincersi di questa cosa cioè che non non è colpa rossa chiaramente comincia a ribellare comincerebbe a dire ok ma io con le candele in casa non ci sto la macchinina elettrica non me la compro non me ne frega una mazza perché evidentemente se anche spegnessimo tutti quanti le luci spegnessimo tutti quanti le auto non è che di colpo la temperatura non è vera questa cosa non è vera perché l'influenza diciamo delle emissioni l'influenza dei gas effetto sera si chiamano diciamo che è veramente di una percentuale trascurabilissima veramente trascurabilissima quindi se anche tutti quanti domani mattina da domani ci mettessimo a camminare sui muri a non usare più l'energia non usare più niente di niente non è che chissà che cosa cambierebbe perché l'influenza di queste cose qui sulla temperatura è veramente di una percentuale irrisoria trascurabile minima quindi non cambierebbe praticamente una mazza allora noi vivremo malissimo ovviamente vivremo come veramente il medioevo quindi con le candele eccetera eccetera però diciamo tutto questo global warming non sarebbe così non avrebbe questa grande influenza sia perché è un fenomeno naturale eventualmente cioè se eventualmente ci dovesse essere pure questo minimo riscaldamento è perché questo è un fenomeno fondamentalmente naturale così come si sono sciolti i ghiacci dopo le glaciazioni non è perché c'era l'emissione di CO2 di gas effetto serra non era per quello ovviamente si sono sciolti indipendentemente da questo quindi continuerebbe ad esserci il naturale corso degli eventi anche del cambiamento climatico eventualmente quindi qualora dovesse esserci ci continuerebbe ad essere perché è naturale e seconda cosa ripeto tutto quello che è comunque naturale avrebbe un'influenza avrebbe un impatto come dire avrebbe un cambiamento praticamente nullo ok perché queste cose non dipendono praticamente da noi questo l'hanno spiegato bene l'hanno spiegato molto bene andatevele a vedere sul web queste cose qui perché ci sono spiegate ci sono spiegate queste cose qui ok quindi questa è l'ennesima è l'ennesima riprova ok che ci stanno riempiendo di balla adesso si stanno inventando un'altra emergenza l'ennesima emergenza si stanno inventando perché ci devono venire a dire che anche questo è colpa nostra quindi dobbiamo tutti quanti fare sacrifici non ci dobbiamo muovere non dobbiamo usare l'acqua calda non dobbiamo usare l'elettricità non dobbiamo fare una mazza di niente è perché per colpa nostra c'è il riscaldamento globale ma non è così ma non è così non è assolutamente così va bene andatevi a vedere le news grazie a tutti